ciao sono andrea e sono il tuo biologo di fiducia e in questo video abbastanza breve volevo mostrarti quello che purtroppo mi è successo con uno di me due randa e ti voglio spiegare quello che mi è successo come l'ho risolto e come lo sto risolvendo fondamentalmente uno di me due randa si era incastrato nella lana che avevo preparato come substrato di deposizione e lì si era incastrata la lana proprio attorno alla coda io purtroppo me ne sono accorto qualche ora dopo immagino perché ero passato prima la mattina da da mangiare e sono poi ripasso il pomeriggio è notato il problema e purtroppo non ho avuto modo di filmare per farti vedere il problema e come poi ho risolto quindi te lo racconto ma ti faccio vedere adesso il trattamento che sto facendo per evitare ovviamente complicanze fondamentalmente c'era il il filo che era legato attorno alla pinna caudale e ho semplicemente pescato il pesce tagliato il filo e ho rimesso il pesce libero di nuotare mi sono accorto che quindi poi il filo ovviamente aveva lacerato parte comunque del tessuto epiteliale e di conseguenza per sto cercando di fare trattamenti che aiutino la cicatrizzazione quindi poi la totale rimarginazione della ferita e che comunque prevengano eventuali infezioni secondarie quindi batteriche o micotiche io fondamentalmente applico della betadine gel una crema che dovrebbe aiutare a prevenire appunto queste infezioni ed aiutare la cicatrizzazione ti faccio vedere come faccio e eccolo qua questo il pesce ferito adesso spero si veda tutto bene e si senta bene adesso lo pesco gli applico la crema che è questa utilizzo dei guanti per evitare di stressare l'esignare troppo il pesce e per evitare ovviamente anche io di eventualmente prendermi delle infezioni la cosa ovviamente cioè i guanti sono consigliati ma non sono obbligatori poi ognuno in questo video ovviamente puramente dimostrativo poi faccio vedere quello che faccio io sui miei pesci ora cerco di pescarlo senza stressarlo troppo e e applichiamo la cura ok questa è la lesione eccola qui ovviamente col guanto un po difficile ma si riesce bene lo stesso ok ed ecco il prodotto applicato più o meno insomma l'importante è aiutare non voglio di certo cioè dovrebbe semplicemente aiutare la cutelesa a rimarginarsi e a evitare insomma problematiche in futuro ok pesce fatto liberiamolo e ora ve lo mostro ecco qui appena rilasciato mi sono tolto i guanti e ho iniziato a filmare e ovviamente adesso è leggermente stressato questa cosa gliela faccio una volta al giorno e questa è la lesione se si vede un po poi magari tra qualche giorno la pulirò leggermente con un cotton fioc e un po d'acqua ossigenata giusto perché vedo qui si vede leggermente c'è ancora non capisco se sono delle scaglie rialzate dobbiamo vederlo un po meglio quello lì c'è qualcosina e magari riusciamo a sistemarlo meglio e purtroppo si si era si era incastrato in uno di questi li avevo tagliati tutti in modo tale che non formassero appunto questi anelli potessero incastrare i pesci però si vede che qualcuno mi ha sfuggito sono molto stupido ho sbagliato e ovviamente adesso eventualmente magari li li tolgo anche se il mio scopo ovviamente era quello di riprodurli quindi fa sì che loro utilizzassero questo substrato per la deposizione comunque il pesce mangia rispetto al primo giorno in cui era molto rosso infiammato mi sembra star meglio questo è il terzo giorno e vediamo ecco ti ho fatto vedere quello che faccio per il pesce il mio obiettivo era di portare ovviamente una riproduzione di questi oranda ma vediamo se adesso riuscirà comunque a riprodursi la vasca ovviamente non è di solito loro stanno nel bin lo spostate nella vasca questa proprio per acclimatare la riproduzione per perché ho iniziato a portare la temperatura dei 20 gradi che erano un grado al giorno a 25 e ho iniziato anche ad alimentarli due volte al giorno anziché una proprio per stimolare magari pensavo che appunto in un paio di settimane potessero presentare qualche tentativo di copula qualcosa e dopo cinque giorni ve li ho spostati è successo questo quindi magari rimuovo adesso comunque il substrato e continuo comunque ad alimentarli e anche per a togliere il substrato mi aiuta ovviamente per una pulizia più più di fine ovviamente e nulla ovviamente vi terrò aggiornati vi farò vedere anche se riuscirò a riprodurli sperando e questo ovviamente è quello che faccio io con i miei pesci non ti sto dicendo di farlo non ti sto dicendo che funziona volta tu la tua situazione oppure contatta qualcuno che sia in grado di valutare la situazione per te e farti un lavoro fatto bene niente dai ci vediamo alla prossima